Buonasera a tutti, tutte e tutto, voi che ci seguitete da casa o voi abitanti o frequentatori della foresta di Sherwood. Siamo qui in questo venerdì sera, intanto fra una partita e l'altra anche se la Svizzera e la Spagna continuano a giocare e siamo qui per una bella presentazione ci tenavamo molto a fare, sia come Radio Sherwood che come Sport alla Rovescia, anche a nome della San Precario e di tutte quelle che sono realtà sportive dello spazio nord-est. Ringrazio Gianmarco Duina per essere qui. Gianmarco è qui per presentarci Calcio e Migrazione, un fenomeno mondiale, un fenomeno globale. Prima di partire sul libro, prima di partire con le prime domande ti chiedo un attimo di raccontare a chi, soprattutto per chi ha l'ascolto, magari è la prima volta che ti sente nominare chi sei, un po' la tua esperienza di vita, la tua esperienza sia a livello del calcio ma anche a livello di migrazioni. Sì, grazie Luca, ma veramente grazie a tutti e tutte che lavorano e si impegnano con veramente passione di edizione allo Sherwood Festival. Sono veramente contento di essere qua oggi e insomma di portare un po' anche una storia che appunto si intreccia abbastanza con la mia vita, che soprattutto appunto negli ultimi anni è abbastanza monotematica e si rifà al calcio e alle migrazioni. Perché io come tanti di noi ragazzi e ragazze appassionati di sport, ho cominciato a fare sport molto molto giovane, dovendo però poi interrompere la mia carriera tra virgolette sportiva, anche se non era a livelli altissimi, prevedo un infortunio, però consapevole un po' della valenza educativa dello sport. Ho creato il progetto Obol che dal 2016 è attivo in diversi paesi dell'Africa per utilizzare il calcio come strumento di educazione, di inclusione sociale, di contrasto a forme di discriminazione. Quindi nasce in Africa il progetto in Zambia, poi si espande in Kenya, in Tanzania, oggi è attivo in altri paesi come Nigeria, in Guinea, in Benin e continua a crescere. Continua a crescere proprio perché il calcio è uno sport che ha questa universalità nel suo linguaggio, nei suoi valori e quindi si sviluppa molto rapidamente. Mentre in Italia, a Milano, perché appunto io sono di Milano, abbiamo fatto nascere realtà sportive che appunto coinvolgessero, utilizzassero lo sport come strumento di delegazione, di inclusione sociale, di lotta al razzismo, prevalentemente attraverso il calcio con l'esperienza più, forse meglio riuscita che è quella della Sant'Ambres, che è una squadra di calcio che quest'anno gioca in terza categoria dal 2018 in FIGC ed è composta prevalentemente da migranti, prevalentemente da migranti centramericani e subsahariani dell'Africa. Insomma, però appunto questo binomio quindi di sport, partiamo di ricalcio e di migrazioni, è un tema appunto molto molto stretto. E allora io entro subito sul libro. Tu oggi porti da noi un libro che contiene e racconta quello che è il fenomeno dei giocatori che in Italia definiamo oriundi. Qui mi viene in mentre una battuta di Benny che dentro Bar Sport racconta, sulla gazzetta compare il titolo, arrivano gli oriundi, i vecchi al bar dicono avevamo appena finito con i tedeschi che questa parola è anche una parola complessa, però ben specifica. Gli oriundi nel calcio italiano sono sempre stati presenti, uno può citare Altafini, ci sono una serie di grandi nomi, anche storici. E tu qui fai un insieme, una narrazione di tutto quello che è durante i mondiali. Questo fenomeno, è chiaro anche l'intento di voler parlare di qualcosa di più ampio perché un conto è raccontare Altafini, un conto è raccontare il migrante di oggi che magari gioca nella San Precario o gioca nel Sant'Ambrosio, quindi gioca in una squadra piccola che comunque ha la stessa passione per il gioco. Quindi io inizio con la prima domanda. Come ti è venuta l'idea del libro? Quando hai deciso di dargli questo taglio e perché? Allora, sì, il libro nasce appunto da, innanzitutto dall'idea di valorizzare il tema della migrazione, cioè perché purtroppo vittime un po' di quella che era informazione mainstream, si è sviluppata un'idea stereotipata per cui il migrante è il migrante povero, è il migrante che cerca di un po' arrangiarsi per sopravvivere alla giornata, quando invece la figura del migrante è a volte quello che ti fa vincere la Coppa del Mondo. Partiamo dal presupposto che come emerge poi dal libro, l'Italia non ha mai vinto un mondiale senza un migrante in rosa. L'Italia ha vinto quattro mondiali oggi, 30, 34 e poi fino all'ultimo del 2006 ci sono sempre stati dei migranti in rosa, così come nel 62, in altre edizioni. Quindi il migrante non è soltanto quello che appunto sopravvive in una linea tra legalità e illegalità come spesso ci vuole essere rappresentato. La migrazione è un valore, è un valore perché ovviamente è la mescolanza di culture diverse, di tradizioni diverse, ma anche perché appunto siamo a parlare di persone, persone con una storia, con un passato, ma anche con un futuro. E questo molto spesso non viene mai rappresentato, quello è il futuro del migrante, si parla sempre del passato e poco del futuro. E invece attraverso appunto le storie di personaggi che hanno scritto poi la storia del calcio, così come la conosciamo, presentarla come figure positive. Il testo nasce inizialmente come un testo didattico rivolto alle scuole per insegnare la storia attraverso lo sport, perché appunto viviamo comunque un momento anche di disaffezionamento scolastico, questo anche tipo di educazione sempre più formale, riesce ad attacchire meno magari sulle nuove generazioni e quindi un approccio più informale, più coinvolgente, più stimolante era quello di partire dal calcio. E la mia idea all'inizio era proprio partire dalla foto della nazionale campione del mondo in carica, che è la Francia del 2018 e conquista gli europei in Russia e proporre a una classe di studenti delle riflessioni sulla foto, che è abbastanza emblematica, abbastanza lapide per l'esperienza. Tutte le reazioni sono state, beh, su una squadra di 11 giocatori ce ne sono almeno 7-8 che hanno la pelle scura. E stiamo parlando della Francia, che è una squadra nazionale europea, ma com'è possibile questa cosa? E quindi poi lo stimolo era rivolto appunto agli studenti che avrebbero dovuto informarsi su come mai, da dove provenivano i giocatori, scoprendo che i giocatori provenivano da nazionalità, che erano stati a loro volte coloni francesi e quindi affrontare il colonialismo e via dicendo. Quindi ogni squadra porta dentro di sé delle storie individuali, che poi diventano anche storie collettive appunto di migrazioni, e che quindi sono stimolo anche per informarsi su quelli che sono i fatti storici. Quindi si può partire dalla Francia del 2018, si può partire dalla storia di Oselta Fini, o dall'Italia del 34 o del 38, che appunto vince i suoi primi due mondiali e ha questi appunto citati oriundi in squadra, che ha anche questa sera, perché appunto l'Italia gioca con tre oriundi anche agli europei del 2021. Su questo viene in mente anche le parole che in realtà l'attuale tecnico della Nazionale, Mancini, aveva dichiarato nel 2015, dichiarando che in Nazionale dovevano giocare solo giocatori nati in Italia, nati nel paese. Poi in realtà lì si corresse subito dicendo sì, io parlavo di persone nate nel paese fisicamente, ma anche quei figli di italiani. Oggi ne schiera tre. Oggi all'epoca non era tecnico nazionale, lo era qualcun altro e oggi ne schiera tre. Su questo parliamo magari di Giorginio, che è di origine brasiliana e quindi di quello che è la migrazione fra Italia e Brasile a livello calcistico e magari anche non solo. È divertente perché Giorginio, lui originario di Santa Lucia, in provincia di Vicenza, quindi se fosse andata riversamente stasera sarebbe qua probabilmente, lui sarebbe stato un ragazzo vicentino che veniva allo Sherwood Festival. Giorginio, così come Toloi, così come Emerson Palmieri, Emerson è di origine di Cosenza, mentre invece Toloi è di origine trevisana, però appunto non figli, perché ormai siamo arrivati alla generazione dei nipoti, quindi nipoti o addirittura bisnipoti di italiani emigrati negli Stati Uniti a cavallo del 38-900, con le famose emigrazioni transatlantiche che ebbero come primo approccio gli Stati Uniti, poi gli Stati Uniti subirono anche una sorta di… prima favorirono l'immigrazione, perché anche essere favorevole o contrarre all'immigrazione è una storia della politica, sempre in base da quanta forza lavoro ti serve. A un certo punto sei contro, poi a un certo punto ti serve forza lavoro a basso costo, allora diventi improvvisamente favorevole. E quindi poi a un certo punto invece si sviluppò più sul Brasile, anche perché il Brasile aprì appunto le porte servendo, avendo usi di mano d'opera, e tantissimi italiani, soprattutto da queste zone, proprio del nord-est Italia, migrarono verso il Brasile e l'Argentina. In Brasile la prima squadra di calcio si chiamava Savoia Football Club, si viene fondata il primo gennaio del 1900, vestiva la maglia col colore dei Savoia e raggruppava appunto un gruppo di italiani. E poi l'esperienza più famosa è quella del Palmeiras, che è campione tra l'altro in carica della Coppa Libertadores, che nasce come palestra italiana. Cioè viene fondata negli anni venti dai migranti italiani in Brasile, che fanno la stessa identica cosa che fa oggi la San Precario e che fa oggi il Sant'Ambrose. Cioè dire siamo una comunità di migranti, siamo una comunità di persone che vive lontane dalla propria casa, in un paese straniero, che ci accoglie ma ci ghettizza. Quindi viviamo una sorta di borderline, non sappiamo bene come esprimerci, troviamo nel calcio lo strumento attraverso il quale esprimere la nostra tradizione, la nostra cultura e anche le nostre personalità. Così nasce la palestra italiana, che all'inizio tra l'altro con dergolamenti abbastanza stretti potevano giocare solo italiani, solo nati in Italia, poi si aprirà un pochino di più e diventa una delle squadre più forti del Brasile. Poi nella seconda guerra mondiale, con la svolta insomma fascista dell'Italia, il Brasile invece si alleherà con gli Stati Uniti, con gli alleati, quindi rinnegherà qualunque tipo di relazione con l'Italia fascista e cambierà il nome da palestra italiana al nome con la quale è conosciuto oggi che è Palmeiras. Però questo dimostra veramente un legame forte fra questi due stati. Le parole di Mancini da questo punto di vista lasciano un po' il tempo che trovano ed è evidente che Mancini non avesse studiato appunto la storia, non avesse letto il mio libro, forse se l'avessi scritto prima avrebbe capito che appunto l'Italia non ha mai vinto un mondiale senza uno straniero, uno straniero quindi una persona non nata in Italia in campo e soprattutto nel 34 e nel 38 per i primi due mondiali si parlava del... nel 34 erano 7 i giocatori che non erano nati in Italia, 5 erano nati in Brasile, uno in Francia, uno dell'impero austro-ungarico e tra l'altro con storie anche divertenti nel senso che Enrico Guaita che nasce in Brasile diventa calciatore della Roma, viene acquistato dalla Roma, fortissimo, allora cosa fanno? Vanno a cercare se qualche avo era italiano, lo scovano e è facile perché in Brasile il 50% della popolazione ha antenati italiani e quindi diventa improvvisamente italiano, gioca il mondiale, vince il mondiale nel 34, poi alla fine del 34 comincia la guerra in Etiopia, allora lui dice, allora gli viene detto dal regime che anche lì, il regime fascista quindi duro e puro però quando ti fanno vincere i mondiali diventavano anche meno puri ma siccome adesso che Guaita era italiana doveva andare a combattere in Etiopia e quindi poi lui scapperà con una fuga roccambolesca facendo finta di andare a fare una vita e quella macchina scappa, torna in Brasile e dichiarerà io faccio i gol, non faccio la guerra, quindi comunque storie appunto che si intrecciano e di cui il calcio è semplicemente uno schermo nel quale passano tantissime storie. Continuiamo infatti a parlare un po' di storie e parliamo, la dicevo prima, del futuro, il prossimo mondiale l'anno prossimo sarà in Catara, infatti questa è una domanda anche scomoda da un certo punto di vista perché il Qatar, paese povero calcisticamente come tradizione, ciò non toglie che ci fosse magari la volontà di portare il calcio sul Sudafrica, diciamo che il progetto ha funzionato, anche il Sudafrica non era storicamente un grande paese di calcio, ma il Qatar ha fatto, oltre avere una situazione migratoria abberrante, oltre a violare i diritti umani segnalato da numerosissime associazioni come ad esempio Amnesty, ha fatto anche una scelta di calcio migratoria perché ha attivato qualche anno fa una vera e propria, definiamo la caccia all'uomo, ricerca talent scouting di giocatori per portarli in nazionale per cercare di avere una nazionale competitiva e come valuti questa iniziativa o anche come valuti tutto quel, qui parliamo proprio di calcio mestri, come valuti tutto quel processo economico del calcio dei grandi giocatori che vanno a giocare, migrano perché diventano migranti economici che sono in realtà la maggior parte dei migranti insieme a quelli climatici che compongono l'oggi, le persone migranti. Come valuti questo fenomeno, il petrol dollaro e come valuti i mondiali catarioti? Allora, parto dalla questione migratoria, tu hai detto giustamente, hai fatto un accenno molto importante ai migranti economici e in questo libro tendo molto a sottolinearlo, migrante non è soltanto colui il quale arriva col barcone, perché appunto poi viene stigmatizzato il concetto migrante, povero, barcone. In Italia ci sono, diciamo, tre calciatori migranti che quando magari presento la gente strabuzza gli occhi, uno è Claudio Gentile. Claudio Gentile nasce a Tripoli, per esempio, quindi è un altro tipo di migrazione, una migrazione coloniale, cioè i suoi genitori erano siciliani e erano nati a vivere in Libia, colonia italiana, e poi c'è Roberto Di Matteo che è nato in Svizzera e Simone Perrotta che è nato in Inghilterra. E uno mi dice, ma se non nasce in Inghilterra non è un migrante, perché no? Migrante, allora capiamo chi è il migrante. Migrante è colui il quale lascia la propria casa per andare a cercare un futuro migliore per se stesso, per la sua prole, insomma. Per cui è il migrante che si sposta con l'aereo, è il migrante che appunto cerca una condizione migliore, anche per esempio andando appunto in Inghilterra. Questo poi apre una tematica. Oggi sui mondiali in Qatar ovviamente la mia posizione è abbastanza netta e chiara e penso sia quella condivisa di un'ennesima sconfitta del calcio come lo amiamo, è un'ennesima vittoria invece schiacciante perché con altri mezzi e con altri budget di un calcio sempre più dedito al denaro. Esempio lampante ne è stato poi, per entrare nel tema delle migrazioni, l'episodio Suarez. Quindi noi abbiamo e lo postiamo testimoniale con le nostre realtà di esperienze di sport popolare, centinaia, migliaia di giovani, ragazzi e ragazze che non riescono ad accedere alla cittadinanza italiana e poi, ma per anni, per percorsi delegati ad anni e poi hai un Luis Suarez che arriva col jet privato all'Università di Perugia e siccome guadagna 10 milioni l'anno deve per forza diventare italiano. Per cui appunto dando adito a una delle contraddizioni più grandi di questo sport che sta facendo girare, è una quota sempre più incontrollabile di soldi. Per cui innanzitutto promuovere esperienze di sport popolare. E poi sulla questione appunto di come la vedo io, su andare a ricercare giocatori, secondo me la mia posizione, anche frutto un po' di questi studi, è sempre comunque promuovere la scelta individuale dell'individuo, che può essere per vari motivi. Uno degli episodi più lampanti è quello dell'unico episodio mondiale nel quale in una partita della Coppa del mondo giocano due fratelli per due squadre diverse. L'episodio dei fratelli Boateng in Germania-Ghana, due fratelli nati entrambi a Berlino-Ovest da madre tedesca e padre ganese che hanno fatto una scelta individuale. Cioè loro hanno condivido la stessa famiglia, lo stesso utero, lo stesso padre, la stessa madre, ma nell'individuo, l'individuo in sé come individuo unico nel suo genere, uno ha scelto di rappresentare la nazionale del Ghana e uno quello della Germania. Entrambi avrebbero potuto giocare per entrambi, cioè non è stata una scelta legata all'opportunità, come è in molti casi. Lo stesso Emerson Palmieri lo aveva dichiarato che avrebbe voluto giocare per il Brasile tutta la vita, ha giocato un Under-17, poi il Brasile è ricco di talenti per cui non ha più avuto spazio ed è venuto in Italia. Però appunto l'episodio Boateng evidenza come poi alla fine l'individuo sceglie di rappresentare la nazione per la quale si sente riappartenere. Tant'è che la copertina del libro richiama un momento molto particolare, molto intimo che quello dell'inno nazionale. E quindi vedere la scena dei due fratelli Boateng cantare due inni nazionali diversi, nonostante nati nella stessa casa, secondo me quella è la direzione da promuovere. Quindi agevolare la scelta individuale dell'individuo che sceglie di rappresentare uno stato piuttosto che un altro. E il resto sugli individui. Prendo anche degli spunti dal libro. Nella nazionale svizzera esistono degli elementi che sono, non mi ricordo attualmente quanti ne schieri, ma cinque o sette. Ma la nazionale svizzera ha avuto al proprio interno anche delle questioni, delle vere e proprie, chiamiamole crisi, quasi crisi diplomatiche, sia interne alla squadra sia su quello che è il fenomeno calcio nel paese elvetico. Questo anche per dire che infatti alle volte queste dinamiche non avvengono solamente, ricordiamo quella che oggi assisteremo più tardi a partire dell'Italia. L'Italia si ingianocchierà o no per il Belgio? Non voglio rispondere qui a questa domanda perché non voglio parlare di questa cosa che io trovo ridicola la posizione a FIGC. Ma ti dico, ad esempio, vuoi farci un bel racconto di che cosa è successo qualche tempo fa durante una partita della Svizzera? Allora, innanzitutto chiedo un aggiornamento sulla Svizzera attuale, se ce l'avete sotto mano, perché poi capita Fagiolo che sta giocando in una partita molto importante. La Svizzera è una nazionale incredibile, io la conosco molto bene, quindi si sta andando verso i calci di rigore, che hanno portato bene contro la Francia per gli Svizzera. La Svizzera la conosco molto bene, l'ho vissuta tanto, è una nazionale molto molto multietnica dove appunto tantissime culture si inseriscono. Soprattutto è stata protagonista di grandissimi flussi migratori dall'ex Jugoslavia, quindi tutta l'area dei paesi dell'ex Jugoslavia, e i numeri sono molto interessanti. Nel 2018 erano otto i giocatori non nati in Svizzera convocati per il mondiale, nel 2014 erano sei, prima cinque, prima tre, prima due, cioè c'è una netta crescita. Otto giocatori sono tanti non nati in Svizzera. L'episodio è un episodio molto delicato e molto anche difficile da spiegare per chi non conosce le dinamiche e rappresenta un po' la partita fra Serbia e Svizzera ai mondiali del 2018, dove, come ci suggeriscono i ragazzi che passano dietro, dopo il gol di Shakiri alla nazionale appunto serba, si recosta sotto la curva serba e fece un'esultanza che se uno non conosce non può rappresentare niente, ma il simbolo dell'aquila albanese. Perché? E qua si entra in temi di geopolitica delicatissimi. Allora, la partita era già stata accesa molto prima. Prima del calcio d'inizio è arrivato un drone con uno striscione scritto Kosovo is Serbia e già questo aveva in qualche modo acceso gli animi. Perché gran parte dei giocatori che vestivano la casacca svizzera erano delle regioni kosovare. Shakiri, ma non solo, Liechtenner, gli stessi fratelli Shaka sono esattamente uguali ai fratelli Boateng, solo che non si sono mai incontrati. Uno gioca per l'Albania e uno gioca per la Svizzera. Quindi il tentativo di negare l'esistenza di un popolo, quello kosovaro, che tra l'altro è un popolo a maggioranza albanese, e quindi è interessante come la FIFA, non curandosi poi di determinate dinamiche, crea questi momenti e quindi lì entra in gioco questa dinamica. La Serbia rivendicava appunto il dominio, la centralità di Belgrado sulla zona kosovara. Shaka per esempio suo padre era un dissidente kosovaro che fu arrestato, che si fece alla prigione lottando contro la centralità di Belgrado e quindi della Serbia sul Kosovo. E quindi per appunto stuzzigare questi giocatori di natura kosovara la Serbia si era esposta molto molto appunto apertamente. E l'esultanza di Shakiri invece richiama l'Aquila albanese, quindi le radici albanesi di quel popolo. Al di là poi delle posizioni che uno può occupare, questo è l'episodio più lampante di quanto sia futile dire teniamo la politica fuori dal calcio. No, la politica e lo sport non devono centrare niente. Spiegatemi com'è possibile tenere fuori dalla politica un fenomeno così gigante e possente come il calcio che ovviamente raccoglie tutte queste storie. Tra l'altro poi appunto la Svizzera vinse la partita, il tecnico serbo ai microfoni disse sì ci hanno battuti per la seconda volta, reclamando un rigore non dato durante la partita ma poi anche tutti i processi a carico del governo serbo contro gli omicidi sui kosovari. Cito una delle citazioni più belle secondo me legata al mondo dello sport e della politica che fu fatta dai tifosi del San Poli quando appunto per rispondere agli anni 70 ai movimenti che chiedevano di lasciare fuori la politica dagli stadi. San Polio ovviamente è una squadra che della politica ne ha fatto al suo baluardo e loro scrissero nella fan magazine questa frase che è molto breve ma rappresenta tutto. Il calcio è apolitico come la costruzione di una bomba atomica. Significa che tu puoi anche dire, puoi anche non interessarti, puoi anche tu puoi dire che la bomba atomica è una politica in sé. Certo dopo di che c'è in mano una bomba atomica è logico che crei delle dinamiche che ti rendono di fatto politico. Il calcio oggi ha un impatto sulla società che è talmente immenso, grosso, gigante perché muove milioni, perché muove sia di soldi che di persone che si recano a vedere le partite, che seguono questo sport, che lo fanno vivere, che è impensabile lasciare la politica intesa come geopolitica, come politica di emancipazione di un popolo fuori da queste dinamiche. Gli esempi nel libro sono numerosi da questo punto di vista. E allora ti faccio subito un altro nome di un personaggio di quelli da grande pubblico, di quelli che va a Sanremo addirittura, perché Slatan Ibrahimovic è uno svedese a tutti gli effetti ma il suo nome lo rivela, la radice del suo patronimico rivela subito che le sue origini non sono svedesi. E forse questo è anche uno dei casi un po' più noti al grande pubblico. Assolutamente sì, lui la rivendica proprio la sua figura di zingaro, come lui stesso si è epitettato a volte. Ibrahimovic non me la sono mai sentita di identificarlo come un role model. e gli ultimi episodi con Lukaku tra l'altro l'hanno anche abbastanza dimostrato. Però l'obiettivo è proprio quello, cioè trovare delle figure con un background, non solo un background, ma con una consapevolezza e un'identità migrante, ma soprattutto una consapevolezza migrante, che dicano la migrazione è questo, è anche questo, è il riscatto e è il poi riuscire a tramutare la propria sventura, perché all'interno delle storie dei migranti ci sono alcune che sono veramente di sofferenza. La più incredibile nel suo genere forse è quella di Ryo Mavuba, che è l'unico giocatore a giocare un mondiale e ad avere come luogo di nascita sul documento, è tornato in mare, perché nacque su un barcone da genitori angolani che scappavano dalla guerra civile in Angola e poi ha giocato un mondiale con la Francia, per cui storie incredibili. Oppure slegate anche dall'individuo, ma più legate alla collettività, la mia storia preferita è quella di Papa Bubadiop, che purtroppo ci ha lasciati l'anno scorso, che guida il Senegal ai mondiali del 2002 e guida la prima partita della storia del Senegal ai mondiali contro chi niente po' di meno che la Francia. La Francia che è campione in carica del 98 che ha vinto il mondiale, quindi qualificata di diritto, mentre il Senegal si qualifica tra l'altro per differenza reti, ripescata, quindi un calvario. Tu ti trovi un popolo, quello senegalese, che si confronta col peggior nemico, coloniale, perché la Francia ha tenuto schiavo il Senegal per 300 anni, ne ha fatta la principale rotta della tratta degli schiavi, hai una superpotenza economica contro un paese del terzo mondo nel 2002 e non c'è nessun piano sociale, economico, sulla quale il Senegal può battere la Francia, ma sul campo da calcio, nel panorama mondiale, Papa Bubadiop segna e porta il Senegal alla vittoria. Il Senegal vince contro la Francia. La Francia verrà eliminata dai gironi, il Senegal proseguirà fino ai quarti di finale e la cosa più bella è vedere le reazioni alla vittoria del Senegal. Questa vittoria che sa veramente di riscatto. Cioè avete colonizzato per 300 anni, siete più bravi, più belli, più forti, ma l'abbiamo vinta noi. A Dakar di fatto diventa una giornata di festa nazionale, ma gran parte delle celebrazioni avvengono in Francia. Avvengono proprio in Francia, nelle banlie di Parigi, a Marsiglia, a Bordeaux, dove le comunità senegalesi scendono in piazza a festeggiare la sconfitta della Francia e lo fanno dove? In Francia. Che è stata appunto la prima rotta migratoria di tutte queste comunità. Allora, una domanda da talk show proprio, quelli veri. Il mondiale con più oriundi in assoluto? Beh, è il 2018. E il 2018 perché? Perché questo testimonia proprio questa crescita. È una crescita... Nel 2018 siamo arrivati al 10,05% di migranti sul totale dei calciatori. Nel 1930 eravamo a meno del 5%, meno della metà. Ci sono stati anche mondiali perché lì c'era la migrazione transatlantica. Tra le due guerre ci sono stati mondiali che non si avvicinavano all'1%, 0, virgola. Il 2018 è quello che il 10,7% o 16,5% era il 2014. Comunque, significa che c'è un flusso che è di fatto inarrestabile. È un flusso che è in crescita, continua e nel 2022 saranno molti di più. Non abbiamo ancora dati perché non esistono ancora le cose, ma ci sono pronte a scommettere che superiamo l'11%. Adesso, su questo ti chiederei, uscendo un attimo dal libro, di raccontarci la tua esperienza di calcio più intensa, più vissuta, un momento di calcio vero. Sono contento di raccontarla qua perché è condivisa anche con molte esperienze anche che si trovano qua ed è l'esperienza di calcio nella striscia di Gaza con il progetto Gaza Freestyle che si unisce a altri progetti qua presenti. Difficile da raccontare, comunque siamo nella zona forse peggiore del mondo, sicuramente che io abbia visto, quindi è una striscia di terra occupata dallo Stato di Israele veramente in ogni direzione, sopra con una no-fly zone e con i droni, da una parte dal muro, da una parte dal blocco navale, con un embargo, con tutte queste situazioni, esistono tantissime realtà di calcio e ne esistono anche realtà di calcio, ad esempio, di amputati. Esiste la nazionale palestinese di calciatori amputati che sta proprio su Gaza e parlando con alcuni di questi ragazzi appunto nel periodo in cui stavo giù la cosa che mi ha colpito di più è che molti di loro hanno cominciato a giocare a calcio dopo aver subito delle amputazioni. Quindi sei un giovane palestinese che nasce a Gaza e già ti è andata male. Hai perso un arto, probabilmente, la marcia del ritorno, un bombardamento, uno scontro impari con le forze israeliane e tu per reagire cosa fai? Cominci a giocare a calcio senza una gamba. Per dire non mi arrendo, per dire non mi avrete mai. Siccome le fionde non ce la fanno a scalfire quel muro, il calcio diventa uno strumento di espressione e di ribellione. Di emancipazione, di resistenza. Ed è stata veramente una cosa veramente molto toccante, molto forte ed è sicuramente la testimonianza che mi porto più nel cuore di tutto ciò che è questo mondo del calcio che ha veramente tanto da dire rispetto a quello che poi purtroppo viene raccontato. Infatti io chiudo forse con quest'ultima domanda. Spesso la narrazione del calcio è qualcosa di stereotipato. si raccontano anche le cose come una vera e propria battaglia, uno scontro titanico. Tante volte uno pensa anche, sì, ma il calciatore magari che gliene frega. Ma anche giustamente. Penso ad esempio alla figura di Balotelli, un personaggio che anche lui, migrante perché ha avuto un'esperienza anche solo da Palermo, anche solo da Palermo spostarsi in Nord Italia, è una migrazione. E spesso il calcio ha queste figure che appunto sono eroiche, quando io penso che nella realtà il calcio sia un gioco da ragazzi senza voler svilire il tutto. E quindi ti chiedo, come si può trasmettere la voglia e la volontà di impegnarsi nel calcio e nello sport? Perché te l'hai portato tante volte con la tua esperienza personale in vari posti del mondo. Quindi come si fa a trasmettere a qualcun altro, a far scoccare una scintilla, l'amore per il gioco e per l'impegno? Guarda, innanzitutto le persone che ha citato, Balotelli in primis, sono esempi corretti, nel senso c'è bisogno di role model, è un po' quello che dicevo prima, c'è bisogno di role model, nel calcio ce ne sono stati, mi viene in mente Socrates, Cantona, che con un gesto tanto semplice quanto diretto ha tramandato un messaggio che tutt'oggi esiste, e resiste. Io ho avuto la fortuna di parlare con Claudio Marchisio l'anno scorso, che ho incontrato, che è una persona sensibile a determinate tematiche, ma che dice nel mondo del calcio, in quel mondo del calcio, mainstream, i calciatori vivono in una bolla all'interno della quale non hanno la più pallida idea di quello che succede fuori, non sanno cosa succede fuori. Per cui non è facile prendere posizioni su certe tematiche perché non le si vive, non sai neanche che esistano. È più facile per noi, magari sicuramente, quindi da un lato è cercare di trovare e di far comprendere a un calciatore, ma partendo dalle giovanili, partendo, quindi accompagnando a una scuola calcio, anche una scuola di vita, e formare questo è il ruolo poi degli allenatori oggi che muovono il calcio, formare persone, formare uomini e poi calciatori, affinché appunto un domani siano più sensibili a prendere una posizione. Un'altra grande pietra miliare del calcio con cui ho avuto la fortuna di collaborare è Paolo Sollier, però parliamo di altre annate. Per cui da un lato noi, come in realtà di sport popolare, oggi abbiamo quella responsabilità sui settori giovanili, sui ragazzi, sui adolescenti che si affacciano al mondo del calcio e che magari non diventeranno mai calciatori di professione, ma augurandoli di sì mantenere sempre quell'aspetto umano prima di quello sportivo, consapevoli di essere dei role model, consapevoli di essere degli ambasciatori di una popolazione che è quella dei supporters, dei fan del calcio che è immensa. Basti pensare che ci sono più stati aderenti alla FIFA che all'ONU, quindi un mondiale è un palcoscenico che è più ampio di quello dell'Assemblea delle Nazioni Unite, quindi portare un messaggio, così come ha fatto la Norvegia nel suo piccolo col tentativo di boicottaggio dei mondiali in Qatar, poi un po' ritrattato, ma... Ricordo anche che è un tema anche importante per noi, hai equiparato i premi delle due nazionali, gli stipendi di chi gioca nella nazionale dicendo che se facciamo lo stesso lavoro prendiamo lo stesso stipendio. E su questo è un'altra necessità impellente di presa di posizione da parte dei calciatori e delle calciatrici, ma soprattutto dei calciatori perché hanno e godono oggi di una visibilità maggiore ed è loro anche la responsabilità di fare una lotta concreta per la riduzione delle discriminazioni e per l'introduzione del professionismo non solo nel calcio ma nello sport semi-medio in generale. Su questo vi invito anche al prossimo dibattito a cura di Sport alla Rovesce della San Precario trasmessi su Radio Sharewood che sarà il 9 di luglio e Gianmarco io ti ringrazio ancora ricordo al nostro pubblico che ci ascolta il pubblico qui e che qui il libro naturalmente Gianmarco è qui in vendita e per quelli che ci ascoltano da casa che potete trovarlo sia qui in stand fino alla conclusione del festival ma anche sul sito di Bipress o sulla tua pagina Facebook assolutamente tengo a precisare appunto per chi lo acquistasse qua oggi o ci si incontrasta a Milano le mie copie personali vanno interamente devolute a finanziare appunto i progetti in Africa di appunto di promozione del calcio come strumento educativo come strumento di educazione e di promozione di questo sport per cui grazie ancora Luca grazie a tutti e tutte buona serata e buona partita grazie a tutti 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 grazie a tutti